Ciao ragazze ed eccomi di nuovo qua e questo è uno di quei video in cui parlerò di dieta e allenamento. Come vi avevo promesso sono tornata, sto registrando questo video domenica perché lunedì non potrò farlo, dovrò lavorare un pochino di più e aggiornerò di come sarà la mia giornata lì su Snapchat, quindi se volete seguirmi, mi avete già accompagnata per questa settimana che non è stata sicuramente facile, però vi voglio già anticipare che sono riuscita a perdere 2 kg e sono molto 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 contenta. Nonostante io sia riuscita ad andare in palestra solo un paio di volte, però mi sono impegnata tantissimo a bere l'acqua e anche con il cibo sono stata, come sempre ci sono stati giorni molto molto difficili, come giovedì, se non mi sbaglio, e anche sabato che sono andata ad un ristorante brasiliano. Mi sono contenuta al massimo nelle porzioni, porzioni molto piccole, vorrei aver mangiato il mondo, però almeno sono stata contenuta e nonostante io non sia stata così fedele perfettamente alla dieta, sono comunque riuscita a perdere quello che volevo settimanalmente, che era 2 kg. E anche come non poteva mancare, c'è stata anche la voglia del dolce. E io ho cucinato, sì, ogni tanto cucino, e ho fatto un cookie funzionale, che era buonissimo, da Dio, è veramente sano e leggero. Se volete ho messo la ricetta sul mio Instagram, quindi ho tutto spiegato, le porzioni e il modo di fare. E poi, come vi dicevo, sono riuscita ad andare in palestra solo un paio di volte, però queste due volte le ho fatte per bene, come si deve. Come vi ho detto, oggi che vedete questo video lunedì, starò tutta la giornata fuori casa, quindi mi devo già preparare con le porzioni da portare via, perché uscirò la mattina presto e torno alla sera tardi, quindi mi devo organizzare. Del resto la dieta continuerà uguale, identica, per tutta questa settimana, visto che mi sono trovata bene, riesco ad stare bene con queste porzioni. Vedrò di essere ancora più attenta, soprattutto nel cibo, di non uscire. Questa settimana non vuole uscire niente, neanche una volta di una dieta. Ce la farò. Sapete che la mia dieta prevede 4 litri d'acqua, e non tutti i giorni sono riuscita a fare 4 litri. Un giorno 3, 3 e mezzo, 2 e mezzo. Questa settimana voglio fare tutti i giorni 4 litri. Speriamo di riuscirci. E per aiutarmi in questa settimana ho fatto in ordine sul sito di Prozis, che volevo mostrarvi in questo video, però non è ancora arrivato, vi mostrerò la settimana prossima, che ho chiesto delle pasticchie di tè verde, che mi aiuteranno anche a eliminare i liquidi, a drenare e quindi a ottenere il mio obiettivo. Come prodotti anti-cellulite, invece, ho utilizzato questi tre, questo qua da la somatoline, questo fango della Venus, e quest'altro gel, ancora della Venus. Questo l'ho utilizzato due volte sulle braccia, per fare una riduzione alle braccia, con un massaggio specifico per le braccia, e poi un vendaggio a freddo sotto. Questo gel è già a freddo, quindi il vendaggio a freddo va a intensificare ancora di più la sua azione. E inizio a vedere un po' i risultati, vede già le braccia più sode, più compatte. Questo l'ho utilizzato per due volte, in questo modo. Se volete un video specifico, fatemi sapere. A quest'altro, invece, ho fatto la stessa cosa, per due volte l'ho utilizzato questa settimana, che è il fango della Venus, con azione in 12 minuti. Io sto adorando, veramente, amando questo. Sta già finendo, devo comprare un altro per questa prossima settimana. Assolutamente lo devo ricomprare, perché è uno di quei prodotti che sento la differenza quando li uso. L'ho utilizzato dalla pancia in su, avvolgendo tutto con la pellicola, e poi sopra una fascia che ho per la riduzione della pancia. Dopodiché un breve massaggio con questo qua, che è il trattamento ampicellulite urto, rapido e preciso energetico della Venus, che è un gel da applicare sopra. non è molto da massaggiare, ma è più da applicare e lasciare la mattina o la sera, quando sono più comoda. Questi sono stati miei tre prodotti, e mi stanno aiutando molto, molto, molto. Se volete un video specifico sul trattamento che faccio con questi due prodotti, fatemi sapere. Del resto, gli allenamenti saranno uguali a quelli della settimana scorsa. E visto che non sto riuscendo ad andare tante volte in palestra, io chiesto al mio personal trainer un allenamento da fare a casa, con le cose che ho a casa. Lui mi ha dato quindi questa scheda. Ad andare in palestra, le farò a casa questi esercizi. Aiuto, mi piace. Poi del resto, per la palestra, ho preso un supplemento energetico, o un bruciagrassi, come lo vogliamo chiamare. Questo è il LipoSix Black, della casa Nutrex, che ho comprato sempre col sito della Prosis. l'ho preso giusto per due volte, che sono andata in palestra. Ve lo voglio far vedere appunto, perché sta facendo parte del mio processo della perdita di peso, quindi ve lo faccio vedere, perché come vi avevo promesso, senza segreti. Qui io faccio vedere tutto, anche la pizza che mangia. Però me l'ho mangiata. Penso di chiedere un cambio di scheda soltanto la settimana prossima, vedremo come mi trovo per ancora questa settimana. Se riesco ad ottenere buoni risultati, visto che non riesco comunque ad andare tante volte, mi impegnerò ancora di più. Se volete sapere comunque più aggiornamenti durante la settimana, seguite su Snapchat e su Instagram, che sto sempre, lascio sempre le foto, di quello che sto mangiando, quello che sto facendo, e anche su Snapchat. e questo è il diario della dieta di questa settimana. Il mio obiettivo per questa settimana, io sono riuscita, ma e tu? Sei riuscita nel tuo obiettivo? Sei riuscita a fare gli esercizi che volevi? A bere quanto volevi? Fatemi sapere qua sotto sui commenti, come è andata la tua settimana? Per adesso è tutto ragazzi, un bacio grande, e alla prossima. Ciao!